Benvenuto, benvenuta. Oggi proseguiamo la nostra miniserie sulla risonanza magnetica. La volta scorsa ti avevo fatto vedere come installare quel programmino per poter vedere qualsiasi esame medico per imaging, quindi TAC, risonanza, raggi, eccetera. Oggi parliamo della prima struttura di risonanza magnetica di cui ti voglio parlare, che sono i menischi. E per farlo utilizzeremo una risorsa online, bellissima, completamente gratuita, ma non voglio anticiparti nulla, sigla e andiamo a vedere. Allora, la prima cosa da fare è ovviamente andare su internet, sul browser. Ti lascio il link in descrizione perché non voglio stare qui a fartela tanto lunga. Cliccando sul link che ti metto in descrizione arriverai direttamente a questa pagina qua, che secondo me è una pagina bellissima perché è sostanzialmente un database di TAC, di risonanze, di raggi, completamente interattive che ti permettono di apprendere le cose, diciamo, principali di questi esami qui. Ovviamente c'è CT che è la TAC in inglese, MRI che è la risonanza, X-Ray che sono i raggi, oppure puoi non filtrarle, quindi vederle tutte. Quello che a noi interessa vedere oggi è la risonanza, in particolare il modo di ginocchio. Quindi scriviamo knee, che è ovviamente ginocchio in inglese, e selezioniamo la prima voce, oppure comunque la voce dove appare il 15 in fondo, che è sostanzialmente tra le varie risonanze che ci sono a disposizione quella che mi è sembrata più immediata da capire. Una volta selezionata vi si apre, eccola qua, vi si apre la risonanza. Per poterla vedere meglio, più grande, andate su Stacks, selezionate Grid Layout, ok, 3x1 ed ecco qua che vi si auto ridimensionano e vi permettono di vederle meglio. Potete anche spostare i vari tagli da una parte all'altra, potete ingrandirli. Io adesso ingrandisco uno, sposto anche questo magari al centro e lo ingrandisco anche questo, e poi anche questo qua lo sposto più in basso per, diciamo, estetica. E eccoci qua. Allora, questa è, diciamo, una risonanza magnetica classica di ginocchio, ok? Qui vediamo tre tagli diversi. I tagli che cosa sono? Sono sostanzialmente come viene visto il ginocchio sui piani dello spazio. Quello centrale è quello, diciamo, che voglio utilizzare con voi, è il taglio frontale, ossia immaginate di sezionare da davanti a dietro, da dietro a davanti, il ginocchio in tante piccole fettine. Quello a destra è il taglio dove sostanzialmente si vede il ginocchio a fette laterali, mediale, ossia il ginocchio tagliato a fette ma dall'esterno verso l'interno, non da davanti verso indietro. E l'ultimo è il taglio coronale che è sostanzialmente da sottra verso sotto, quindi dall'alto, dalla rotula verso il basso. Ma non stiamo a farla troppo complessa, utilizziamo solo quello centrale. Non voglio essere troppo tecnico nella spiegazione, comunque in questo piccolo video, quindi non userò termini troppo complessi. Sappiate che la risonanza ha diverse pesature, ossia puoi vederla in diverse modalità. Quelle che noi stiamo vedendo sono la T1 e la T2, che sono le pesature principali della risonanza, dove sostanzialmente tutto appare o bianco o nero o in scala di grigi. Poi a seconda della pesatura che si utilizza nella risonanza puoi esaltare, cioè rendere più bianco magari tutto ciò che è di contenuto acquoso oppure tutto ciò che è di contenuto grassoso o via dicendo. Questo è il taglio tipico della risonanza, quello centrale, ok? Questa è la rotula, ok? Quindi stiamo andando da davanti, che ovviamente la prima cosa che incontriamo è la rotula, fino in fondo, fino a posteriore nel ginocchio. Guardate che bello questo programma perché appaiono dei puntini ogni qualvolta c'è una struttura che per chi ha creato questa cosa qua è interessante. Andandoci sopra con il mouse vi si apre il nome di ciò che state vedendo, ok? Quindi se voi andate ad esempio qua, muscolo vasto mediale, oppure andate qui e vi fa vedere che è il grasso prepatellare. Scorriamo, scorriamo, scorriamo con la rotellina del mouse. Ecco qua, voi vedete questa parte, questa porzione grande qua grigiastra che è sostanzialmente l'osso e il femore, l'osso che forma l'articolazione del ginocchio insieme alla tibia che è questa qua sotto, ok? E tra il femore e la tibia c'è l'articolazione del ginocchio, ok? Si aprono tutti i nostri puntini, dove sono i menischi? I menischi sono questi qua, questi triangolini neri qua che vedete in piccolo e verso l'esterno e l'interno tra il femore e la tibia. Se voi ci cliccate sopra infatti vi appare medial menisco, menisco mediale o menisco interno, in questo particolare taglio è, vi dice il corno anteriore ma potete vedere anche il posteriore se andate, se andate, se scorrete, ok? E dall'altra parte il menisco laterale, ok? I menischi quindi come appaiono in risonanza perlomeno in questo taglio qua? Appaiono come due triangolini, due triangolini che devono essere, vediamo se riusciamo ad allargarla così la vedete meglio, ok, ok, ecco qua due triangolini sia di qua che di qua, li vedete bene questi triangolini neri qua, ok, e che poi si allargano perché il menisco è fatto sostanzialmente a forma di croissant, ok? Immaginatevi un croissant, se voi lo tagliate da davanti a dietro, la prima cosa che vedete è il cornetto anteriore e poi vedete il corpo e poi infine il cornetto posteriore. I menischi in risonanza devono essere sostanzialmente neri, diciamo, tutti neri. Tutto ciò che è bianco all'interno di un menisco è una potenziale lesione, ovviamente non voglio far vedere come si diagnosticano le lesioni meniscali perché non è il compito di questa, di questo video qua, però tutto ciò che è bianco all'interno dei menischi è una potenziale lesione, deve essere una, per che sia una lesione chiara, franca e non una lesione su base degenerativa, anche qui ho fatto un video che ti consiglio di andare a vedere, deve essere una linea netta bianca che attraversa tutta la porzione nera del menisco, però questo è più o meno come si vedono i menischi in risonanza, quindi se hai una risonanza magnetica a casa del tuo ginocchio e vuoi vedere i tuoi menischi, prendi questo taglio qui dove vedi sostanzialmente femore sopra, tibia sotto e scorri finché non vedi questi triangolini neri, ok? E niente, sostanzialmente questo è quello che ti volevo fare vedere. Ti ricordo che io ho un canale YouTube che è questo qui, ti chiedo di iscriverti e di spuntare anche la campanellina per rimanere aggiornato sulle miei futuri video. Ho un canale Telegram che ho aperto da poco, che secondo me è molto interessante perché io su questo canale ogni giorno, o sostanzialmente ogni 2-3 giorni pubblico qualcosa di inedito che non pubblico né sul video, né sul canale YouTube né altrove, delle piccole chicche, dei casi clinici eccetera eccetera, quindi ti consiglio di andarlo a vedere, di iscriverti e poi a un canale Instagram. Bene, noi ci vediamo al prossimo video e la prossima puntata della risonanza dove ti farò vedere il crociato anteriore come si vede in risonanza magnetica. Io ti saluto, ciao!